La sua parte in Oppenheimer è stata clamorosa, Robert Downey Jr., visto che il suo Stross ha veramente segnato l'esperienza visiva in sala dei telespettatori e lui ha finalmente lasciato alle spalle quella che è stata una delle sue interpretazioni più importanti, ovvero quella di Iron Man. Ma la vita di Robert Downey Jr. è stata anche segnata da eventi particolari, in quanto è stato inizialmente in prigione dopo un iniziale successo. Andiamo però a ripercorrerla insieme e capire quanto si è cambiato durante la sua vita questo incredibile attore. La vita di Robert Downey Jr. è stata un saliscendi continuo, da promessa di Hollywood con grandi ruoli da protagonista, caduto poi nel baratro nel giro di alcol e droghe. In seguito venne accusato di diversi reati, anche di possesso di armi, finendo poi in prigione. Dopo questo terribile momento passa dalla risurrezione nel ruolo che gli cazza a pennello, appunto quello di Tony Stark nell'MCU, che si rispecchia perfettamente in quella che era la vita di Downey Jr. prima di quel ruolo. Il grande successo di Iron Man però porta l'attore a rimanerne imprigionato, perché è un ruolo che gli si cucia addosso, in modo indelebile. In Disney diventa uno degli attori più pagati di Hollywood per poi perdersi in questo grande successo senza riuscire ad uscirne. Quando infine è arrivato Christopher Nolan, dopo l'addio al ruolo di Iron Man in Avengers Endgame, che gli propone il ruolo della vita in Oppenheimer, trova finalmente una nuova resurrezione, che molto probabilmente gli costerà l'Oscar come miglior attore non protagonista. L'inizio della sua carriera con Charlo nel 1992, in cui interpreta appunto il grande Charlie Chaplin, riceve una nomination agli Oscar come miglior attore superato solamente da un grandissimo alpacino in Profumo di Donna. Il proprio il grande successo derivato dal film porta Robert Downey Jr. ad entrare nel tunnel di abusi di droga ed alcol che quindi portano l'attore in seguito anche ad un periodo in carcere. Dopo il successo di Charlo, quindi Robert Downey Jr. inizia la sua discesa nel baratro, il periodo più duro della vita dell'attore nel quale non riusciva ad uscire da un tunnel e sembrava senza fine. Robert Downey Jr. fu poi condannato nel 1996 per possesso di sostanze stupefacermi, armi nascoste in auto e guida sotto l'effetto di droghe. L'attore ha quindi trascorso un anno e tre mesi in carcere e diversi anni in libertà vigilata, finendo di scontare la pena soltanto nel 2002. Durante quel periodo, pensate, irrompe dentro casa dei vicini completamente ubriaco per poi addormentarsi sul letto che non era il suo, da qui il primo arresto ed il rilascio poche ore dopo. Tornò quindi in carcere qualche anno dopo e lavorò nella mensa per 8 centesimi l'ora. Uscito e scontata la sua pena, iniziò il suo percorso di riabilitazione tornando a lavorare. Nonostante il ritorno nella serie comedy Ellie McBeal, non riuscì ad uscire in pieno da questo suo strano periodo di vita, quindi venne nuovamente fermato mentre vagava a scalzo in un quartiere di Los Angeles. Da qui l'ennesimo e definitivo, questa volta rientro nel mondo del cinema, dopo un ennesimo periodo di riabilitazione durato altri due anni. Dopo diversi ruoli, compreso quello di Kiss Kiss Back Bang e il ruolo da protagonista in Zodiac nel 2008, arrivò il ritorno in pompa magna con Iron Man e in seguito ottenne una parte in Tropic Thunder. Dopo Iron Man, la carriera di Robert Downey Jr. prese un'accelerazione improvvisa e nello stesso anno, appunto, girò Tropic Thunder, ruolo per il quale ottenne anche una nomination all'Oscar. Non solo Iron Man, nel 2009 interpretò anche Sherlock Holmes vincendo il Golden Globe come miglior attore. Dopo quello infilò una sequela di successi incredibili, Iron Man 2, il sequel di Sherlock Holmes, gioco di ombre, e di Avengers, per il quale arrivò ad essere elogiato per il carisma visto sullo schermo. Da lì in poi la strada nei panni di Tony Stark per Robert Downey Jr. è in discesa, diventò quindi l'attore più pagato della Disney con 75 milioni di dollari per Avengers Endgame. In seguito, dopo l'addio al ruolo di Tony Stark, l'attore si trovò nuovamente ingabbiato, trovando difficoltà a cercare un ruolo adatto a lui. Quindi decise di provare a produrre con la sua grasa di produzione insieme alla moglie, The Judge, un film che non ha avuto il successo sperato, con lui stesso protagonista. Abbandonato le scene per un periodo dopo il flop di The Little, l'attore decise quindi di produrre serie e film. Una di queste è Sweet Tooth. Dopo diversi insuccessi arriva finalmente il ruolo della vita per l'attore. Infatti, quando bussò Christopher Nolan alla porta, che decise puntare fortemente su di lui per interpretare Louis Stross in Oppenheimer, Robert Downey Jr. non poté che dire di sì. Quindi, come sappiamo, vinse un Golden Globe e un Critics' Choice Award, vincendo anche il saga come miglior attore non protagonista. Ovviamente sappiamo quanto Robert Downey Jr. abbia dato al mondo Marvel, ma speriamo tutti che torni a fare grandissime interpretazioni come quella vista in Oppenheimer nel ruolo di Louis Stross. Veramente, veramente incredibile. Ragazzi, è stato un video intenso, cercando di raccontarvi quello che questo grande attore rappresenta ad oggi. Ovviamente io vi ringrazio. Sono Valerio Berrone e questa è Ciaccazioni. Vi ricordo di mettere mi piace al canale, iscrivervi se vi è piaciuto questo video e di seguirci sui nostri canali social. Trovate tutte le informazioni in descrizione. Grazie a tutti e buona giornata.